Con Peppe Cruce, presidente nazionale Feder Canapa, da Poggio Mirteto, in occasione di un bell'incontro organizzato da Bruno May e soprattutto un incontro con un mondo per noi sconosciuto, ma davvero intrigante, il Nepal, che può offrire grandi, grandi risorse e grandi opportunità a livello economico in termini di sinergie potenziali. Certo, anche sulla Canapa, visto che io mi occupo di Canapa, in Nepal è un paese estremamente interessante perché molto probabilmente è stata una delle culle proprio storiche dello sviluppo di questa pianta ed è stato uno dei primissimi paesi insieme all'India a sperimentare anche gli effetti psicotropi, cioè gli effetti droganti di questa Canapa e gli aspetti anche terapeutici, perché non dimentichiamo che questo principio drogante, il THC, il tetraidrocannabinolo, è anche un efficace rimedio terapeutico per diversi problemi, soprattutto per i dolori di chi soffre di tumore o di aver fatto una chemioterapia, le nausee, eccetera. E quindi oggi c'è una richiesta fortissima anche di questo cannabinoide psicotropo, ma ce ne sono altri cento e più che non sono psicotropi e alcuni di questi, a partire dal cannabidiolo, il cosiddetto CBD, ha effetti terapeutici molto interessanti paragonabili a quelli del THC. Un momento in cui c'è una gran confusione, una battaglia in corso per motivi più o meno strategici o sostanziali. Cannabis light, da una parte si tende a mettere in evidenza i vantaggi di un utilizzo sensato, dall'altro chi parla senza mezzi termini di droga. Sì, e questo è veramente assurdo perché la droga, ripeto, è l'effetto solo di un cannabinoide, il THC. Allora, quando noi parliamo di cannabis light, poi c'è stata un'eccessiva accentuazione del discorso cannabis light come se fosse solo il discorso del consumo, del fumo, del piacere individuale, diciamo, mentre imballo tutto il settore anche dell'estrazione dei cannabinoidi, settore industriale dell'estrazione dei cannabinoidi per uso cosmetico, per uso farmaceutico, per uso alimentare. Il THC è l'unico che ha effetto drogante. Quando si parla di cannabis light e quando è stato presentato questo emendamento, purtroppo respinto dalla Presidente del Senato, la Casellati, questo emendamento poneva un limite molto chiaro di THC, cioè del principio drogante, diceva, parliamo di cannabis light sotto lo 0,5%. Allora, perché lo 0,5%? Perché la soglia che ormai a livello internazionale è assodato dalla tossicologia forense e dalla letteratura scientifica, sotto questo limite del 0,5% non è mai stato percepito dalla scienza alcun effetto psicotropo negli individui umani. e per chiudere i mille utilizzi della cannaba è la possibilità dello sviluppo di una coltivazione a più ampio rispiro della cannaba, con una grande opportunità economica all'alba del terzo millennio. Certo, la cannaba ha avuto una grandissima ripresa in tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda ai Monti Altai in Siberia, una grande ripresa non solo per le sue tradizionali qualità della fibra per uso tessile, che era quella più nota e quella per cui l'Italia primeggiava nel mondo, ma anche per altre applicazioni, pensiamo alle bioplastiche, pensiamo ai materiali compositi, oggi case automobilistiche come Mercedes, come BMW, usano parti della carrozzeria interna, delle rifiniture interne della macchina sono fatte con questi materiali compositi a base di canapa, nelle costruzioni la fibra e la parte legnosa, il canapulo, danno un effetto di traspirazione e di alleggerimento dei materiali che si usano in costruzione, che dà degli ottimi risultati anche dal punto di vista antisismico. In molte situazioni sono stati usati questi materiali per costruzioni antisismiche e questo sarebbe molto interessante anche in Nepal, visto che come noi, come il nostro appennino, il peggio del nostro appennino è una zona ad alta sismicità. E poi insieme alla fibra e ai prodotti delle paglie abbiamo un seme che contiene degli acidi grassi essenziali fondamentali per la nutrizione umana che neppure l'olio di oliva ci dà, perché gli acidi grassi omega 6 e omega 3, che ormai sono famosi anche a livello popolare, l'olio d'oliva non li contiene, li conteneva l'olio di pesce, l'olio di colza, l'olio di lino, oli che oggi abbiamo abbandonato che invece dovremmo recuperare e poi, ripeto, le infiorescenze. Allora cosa dobbiamo fare oggi? Oggi ci sarebbe l'opportunità, coltivandola bene, di valorizzare tutte queste parti, quindi avere prodotti per la cosmesi, per l'alimentazione, per la salute, per la medicina e per le costruzioni e per i materiali strutturali. I mille impieghi della Canava, grazie di cuore a Peppe Croce, presidente nazionale Feder Canava. Grazie a voi e speriamo che Poggio Mirteto diventi veramente un grande partner per il Nepal.